Benvenuti ragazzi, quel bravissimo fuoco E mattina Benvenuti ragazzi, quel bravissimo fuoco Quasi prendete questo nuovissimo video In questo nuovissimo video Da 7 secondi challenge Con mia mamma Cosa devo fare io? Allora, hai 7 secondi Per trovare Per trovare Guarda che c'è lo zio in te Qualcosa di Qualcosa di Rosso Uno, due Tutto Tutto rosso, tutto Tutto, tutto Tutto, come si fa tutto Quattro, cinque Sei Il tappo dello slime Brava, brava, un punto Cosa cavolo devo fare adesso? Ah, i 7 secondi Per fare 6 flessioni Uno Hai detto Comenta Uno Due Tre Quattro Cinque Se Eh, ce l'hai fatta Bravissimo Brava, Miss Ok Adesso Ai 7 secondi Per Andare in bagno Quello di là E Andare in camera E ritornare Quale camera? Da di là Cioè dal bagno là Alla camera là Uno Pronti Pronti Per te E Uno E Dove Rivenire di qua Eh Tre Quattro Cinque Sei Sette No Tempo Scaluto No Era impossibile Questo Pro Soggetto Eliminato Tu hai Brav Miss 7 secondi Per Andare in cucina Prendere il bicchiere Nel tuo cassetto E riempirlo di te Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Tocco Tempo scaduto No L'ho fatto Io l'ho fatto E qua Il bicchiere Un bicchiere Vito Dai Vistoria Vai con la prossima prova Cosa devo fare? Andare in cucina E E trovare il mio bicchiere E riportarlo là Solo trovare il bicchiere? Sì Che colore è il bicchiere? Arancione Ok Parto Aspetta Dai Che va bene vai Non è in cucina Quanto però? Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Eh è finito Non l'ho trovato Dove l'avevi messo? Tocca 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 Dai In cuore di là Sennò non si vede niente in quel video Adesso L'ultima prova per te No L'ultima L'ultima per te No Sì L'ultima Il video sennò diventa troppo noioso e lungo No Allora Ultima prova Per brownies Di Fuoco Sì L'ultima Allora Fare Cinque calcoli che ti dico Quanto? Cinque che ti dico Quali? Cinque Sto pronto? Parto? Sì Trenta meno venti Dieci Mila Cinque più sette Venti Cinque più sette va a venti Dieci Vai dieci Unici Due Ecco Dieci meno quattro Tre Ma dai Sei Sette più tre Quattro Sette più tre Tre Dieci Quanto va? Dieci Ho detto Cinque calcoli fatti Ecco Grazie a tutti ragazzi L'ultima L'ultima Da L'ultima Adesso questa qua È cattiva Vai Sette secondi Per fare Per fare Una prova che ti dico Eh dimmi Che prova è? Cinque flessioni Che cazzo Con le gambe però Tipo squat Con sopra No 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 Ti ho la schiena No 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 Così No no Vai Uno Due No No Devi andare su col culo Non ce la faccio Vedi prova Riprova C'hai tre possibilità Sette di te No 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 Uno Due Aia No Devi farli Adesso è senza di me No Devi farli Basta Basta Ultima possibilità Ciò Uno Due Tre Quattro Ok salutiamo tutti ragazzi Dai Saluta Saluta Bello a tutti ragazzi No ragazzi Tutto questo video È finito qua Se vi è piaciuto questo video Lasciamo un bel like Fatela pure voi La one second challenge Ciao Iscrivete al canale Lasciamo